benvenuti da one piece i massimi esperti oggi parleremo del più grande sparaccino del mondo dracul mioc personaggio incredibile che viene sin da subito presentato come un personaggio molto importante soprattutto per zoro andiamo ad analizzare adesso il suo aspetto e un illazione anche sulle sue origini il suo nome dracul deriva da appunto il conte dracula la sua residenza che un castello su un'isola molto tenebrosa curaigana invece ci ricorda the nightmare before christmas la sua barca la sua croce piccola che porta al collo il suo vestiario e anche la sua pelle pallida non sono altro che riferimenti ai romanzi sui vampiri lui come bevanda preferisce bere il vino rosso e questo non è un caso parlando anche di dracula nello specifico per molti il suo nome valeva a significare andava a significare proprio il male suo padre inoltre era un grande feudatario però la leggenda vuole che il primo vampiro appunto nato come leggenda fosse una donna di nome lilith che inizialmente fu affiancata ad adamo prima che arrivasse poi eva secondo la leggenda alcuni vampiri uccidevano le loro vittime solo nelle notti senza luna mughezzo per gli amanti di bridge sanno di cosa stiamo parlando altri invece si proteggevano da essi con degli amuleti sacri come le croci cristiane oppure un'ampolla di acqua santa i vampiri uccidono le loro vittime succhiandogli il sangue e sono soprattutto avversi al sole grazie al sangue si trasmettono anche le informazioni genetiche delle persone inoltre hook invece significa falco naturalmente essi riferito al suo soprannome mi wuc occhi di falco gli occhi del falco riescono a vedere addirittura una formica muoversi su un terreno su una distanza di più di due chilometri un'altra particolarità del falco è la possibilità di usufruire di un grandissimo campo visivo infatti un essere umano è dotato di un campo visivo di 180 gradi il falco invece possiede un campo visivo addirittura di 340 gradi riuscendo a vedere un numero di oggetti incredibilmente più elevato difatti il soprannome iniziale di mi wuc doveva essere chiaroveggente da qui il suo potere e i suoi occhi occhi di falco e la possibilità concreta che esso lo diciamo noi ma magari sarà veramente così nel manga lui potrebbe avere il medesimo acchi della percezione di ruffi e karakuri cioè vedere una piccola porzione di futuro andando ad analizzare sempre il suo aspetto e quindi le sue origini mi wuc ci sembra ispirato a un tipico spadaccino spagnolo ci riferiamo al rodelero un militare facente parte nell'unità di artiglieria e fanteria dell'esercito spagnolo dei primi anni del sedicesimo secolo un po' come tutti i moschettieri che c'erano in europa specialmente in francia ricorderete tutti d'artagnani mi wuc potrebbe anche essere ispirato essere un evoluzione del personaggio di sirano non tutti lo conosceranno molti lo conosceranno è stato mostrato in wanted più specificatamente in monster ed era l'avversario di riuma sirano ispirato sicuramente a sirano di bergerac oltre a ciò ci sono anche delle somiglianze con un altro noto personaggio di try gun ci riferiamo a nicolas di wolfwood infatti nicolas porta sempre con sé una croce enorme di metallo che a volte in dei panni bianchi e delle cinture questa croce è chiamata punisher perché in realtà è un'arma infatti questa è un'arma enorme e omicida è così pesante che solo wolfwood e pochi altri personaggi riescono a maneggiarla senza particolari problemi inoltre wolfwood afferma che essa peserebbe così tanto perché essa corrisponde alla misericordia di dio adesso andiamo ad analizzare le caratteristiche della spada la ioru sembrerebbe di origine tedesca e sappiamo che fa parte delle dodici saggio o guazzamono il massimo grado di fattura delle lame one piece la suprema anche se miocca asserisce che sia la migliore delle dodici la ioru cioè notte e quindi rappresenta anche la luna la luna nei film e negli anime è collegata anche alle trasformazioni no come quella dell'icanto inoltre sempre la luna è il simbolo della forza dell'oscurità miwok dice anche che la sua spada non è mai stata danneggiata infatti sappiamo che essa sia una lama nera sicuramente miwok ci sarà riuscito dopo numerose battaglie vinte e dopo grandi processi e numerosi processi di annerimento e rivestimento dei lachi dell'armatura naturalmente molto importante anche unire la volontà della spada con quello dello spadaccino per raggiungere questo processo un po come parlano dei samurai no che si unisce l'anima dello spadaccino anche se non possiamo sapere con certezza se questo procedimento è avvenuto grazie a miwok o se magari la spada recentemente fosse nera ma noi crediamo che sia riuscito lui a fare ciò un altro elemento potrebbe essere dato dal fatto che lo spadaccino non venga quasi mai sconfitto e quindi che la lama si impregni del sangue dei suoi avversari quest'ultima affermazione secondo alcune leggende non escludiamo comunque che la yoru ossia la notte della spada nera possega qualche potere intrinseco un po come la emma di lord oden che adesso è in possesso di zoro passiamo adesso a parlare un po della sua storia vediamo miwok come sia sempre stato un personaggio di rilievo importante in one piece infatti sin da giovane circa 20 anni era presente all'esecuzione di gol di roger insieme ad altri personaggi più o meno importanti dragon crocodile do flamingo shanks buggy gicomoria e anche smoker bambini come già detto lui è lo spadaccino più forte del mondo e infatti non vi sono sfidanti alla sua altezza e lui ribadisce più volte come sia stufo di affrontare combattenti che non sono minimamente ripeto minimamente al suo livello basta ricordare come a marine ford tutti rimasero stupiti dalla sua entrata e scena quando sferò un fendente verso baba bianca chizaru a kainu do flamingo boe hancock incredibile anche vista sognava di sfidarlo d'altra parte egli sa anche riconoscere il potenziale nelle persone e questo succede sia con zoro che con rufi soprattutto con rufi lui riesce a riconoscere un'abilità incredibile cioè quella più pericolosa del mondo in assoluto la capacità di circondarsi di amici e persone ovunque inoltre miwok è un ex membro della forza dei set il motivo del suo ingresso fu quello che grazie a questa organizzazione egli potesse scorrazzare liberamente per i mari e magari trovare degli avversari degni parliamo ora nel suo livello combattivo infatti nelle varie informazioni sappiamo bene che possieda sia l'agri dell'armatura che della percezione parlando proprio dell'agri della percezione potrebbe essere ad un livello eccezionale come abbiamo detto poc'anzi ricordiamoci che a marine ford riusciva ad anticipare a seguire in tutti i suoi movimenti rufi in gear second ciò ci porta a pensare che i suoi occhi e la sua vista non siano casuali ma che possieda veramente questo agri della percezione per vedere il futuro quindi ai massimi livelli tipo katakuri e rufi come avevamo già ripetuto sicuramente miwok possiede l'agri dell'armatura avanzato in grado di distruggere l'avversario dall'interno come spiega yogoro dei fiori visto che un'arte specifica dei grandi spadaccini awano chiamata rio ed essendo miwok più grande il migliore spadaccino del mondo sarà in grado di utilizzarla al cento per cento c'è anche una piccola illazione per quanto concerne la questione dell'agri del re nel manga non è mai stata rilevata questa informazione ma è possibile che essendo miwok il più grande spadaccino del mondo il migliore numero uno e quindi avendo una grandissima ambizione una grandissima volontà in questo senso e quindi sappiamo bene che tutti i personaggi più forti dell'opera posseggono questo potere potrebbe avere questo agri d'altronde lord oden kozuki leggendario samurai la possedeva inoltre possiamo notare che in tutte le sue apparizioni in tutti i suoi scontri non ha mai ricevuto una ferita e non è mai stato veramente impensierito tra i vari scontri che abbiamo assistito o che ne siamo a conoscenza ci sono gli scontri leggendari con shanks infatti viene detto che prima che quest'ultimo perdesse il braccio i due fossero alla pari con la spada ma dopo l'infortunio del rosso miwok ha perso del tutto l'interesse di sfidarlo appunto con la spada lo scontro con zoro che ha sconfitto facilmente inizialmente l'ha affrontato con un coltellino dopo lo sconfigge con la sua spada nera la yoru poiché miwok riconosce il valore e la volontà del giovane spadaccino zoro lo scontro con vista il comandante della quinta divisione di barba bianca anche se quello è stato un breve scambio di colpi miwok a marineford riesce a tagliare un immenso iceberg di ghiaccio creato da okigi con un solo colpo sempre a marineford batte mr one in pochi secondi ribadiamo la cosa importante è sicuramente che miwok è stato presentato quasi subito nell'opera di one piece ma nonostante ciò egli è un personaggio che verrà portato avanti nella trama fino allo scontro finale con zoro non a caso essendo lui uno spadaccino viene considerato uno dei personaggi più forti da oda ricordiamo che oda è stato a vivo di nobuhiro watsuki il mangaka di kenshin samurai vagabondo in murabata sai per quanto concerne il suo livello di forza crediamo proprio che sia tra un ammiraggio un imperatore quindi a parere nostro potrebbe rivaleggiare con loro individualmente senza problemi sempre perché ricordiamoci che miwok non possiede nessuna ciurma e nessun interesse a livello di espansione territoriale e politico però se vogliamo fare un paragone anche con oden egli venti anni fa era veramente considerato un prodigio abbiamo visto nello scontro con kaido che senza quell'inganno probabilmente avrebbe avuto la meglio ma possiamo anche dire che oda aggiunse che solo con la spada attenzione solo con la spada miwok fosse superiore a shanks quindi con tutto il rispetto e tutta la concentrazione che possiamo avere con gli ammiragli probabilmente miwok dovrebbe essere superiore anche ad esempio a fuggitora con la spada questo proprio perché essendo lui paragonato a oden ed oggi però in questo momento il più grande del mondo non potrebbe essere sconfitto così facilmente quindi concludendo sul livello di forza noi pensiamo che lui possa essere in grado di rivaleggiare sia con gli ammirati che con gli imperatori ma che non ne abbia stimolo in questo senso quando è stata sciolta la flotta dei sette miwok torna a essere un pirata ed è eccitato come non gli accadeva da tempo ora potrà combattere sia con i pirati che con i marini quindi ci piacerebbe sapere cosa ne pensi tu nostro amico dell'immelov tu che non ritieni miwok lo spadaccino leggendario all'altezza delle tue aspettative definendolo la coppa etalia miseramente a lui il più grande spadaccino del mondo con la yoru la spada più incredibile vista all'interno del manga fino ad oggi l'unico in vita perché lui ma non c'è più che sembra essere riuscito nel annerimento di una spada quindi essendo questa che ne abbiamo detto solo la verità vogliamo sapere tu come riuscirai a svincolarti da questo video qui nei commenti o magari con un video risposta anche se cosa potresti rispondere al più grande spadaccino del mondo alla verità non lo so nemmeno io detto ciò ti saluto e ti voglio bene e dico a voi che ci state seguendo ricordate di iscrivervi ai nostri social soprattutto instagram poi passate su telegram le nostre pagine facebook il gruppo facebook e naturalmente perché no se siete qui per la prima volta anche qui su youtube iscrivetevi e attivate la campanella per avere sempre le notifiche super immediate detto ciò il video è finito ora dirci voi nei commenti cosa ne pensate come ho detto la scorsa volta anche un commento da sfogliatore va bene uguale non vi preoccupate un saluto dai massimi esperti perché qui c'è solo la verità